Il maresciallo capo Michele Manzolillo di Tegiano e l'appuntato Marco Paladino di Sala Consilina appartenenti alla Guardia di Finanza in servizio presso la sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Potenza e alle dipendenze del procuratore capo di Potenza Francesco Curcio, fuori dal servizio e di rientro presso le loro abitazioni nel Vallo di Diano in Contrada Isca di Satriano di Lucania, si sono trovati dinanzi ad un grave incidente automobilistico. I due finanzieri dopo essersi accertati delle condizioni degli automobilisti hanno allertato il 118 e prestato nel frattempo soccorso alle due persone coinvolte. Con prontezza e professionalità hanno tenuto vigile il ferito più grave ed hanno poi provveduto a far accomodare nella loro autovettura l'altro ferito che poi si è scoperto essere un giocatore del picerno calcio. Oltre a questo i due appartenenti alle Fiamme Gialle hanno curato la viabilità del traffico fino all'arrivo dei carabinieri e delle ambulanze. L'intervento del maresciallo Manzolillo e dell'appuntato Paladino è stato di fondamentale aiuto sia per le persone coinvolte nel sinistro ma anche per gestire la viabilità.